ragazzi come ben sapete il 13 di ogni mese estrarò i vincitori del contest quello che vi basterà fare per partecipare è acquistare una skin nello shop oppure andare nello store e comprare qualcosina fare un video in cui si veda che avete messo il mio codice creatore e che fate l'acquisto i vincitori ragazzi vinceranno un allenamento con me avevo detto che era di tre ore in realtà potrebbe essere un po di più e in più ragazzi estrarò 9 12 persone con cui giocherò insieme tre partite a squadre quindi ragazzi vi ringrazio per il supporto e ricordate di mettere il mio codice creatore nell'item shop così da potermi mandare il video del vostro acquisto e partecipare al contest ciao a tutti salve a tutti i ragazzi ben trovati in questo nuovo video oggi sono qui per portarvi un nuovo tutorial sul cecchino questa volta non su pompa e vi darò dei consigli per utilizzarla al meglio perché come ben sapete è un'arma che può chiaramente one shotare se colpite la testa quindi ragazzi vi spiegherò come colpire il più adshot possibile e come utilizzarla al meglio in generale per prima cosa ragazzi c'è una cosa importante da sapere che usando il cecchino darete via la vostra posizione quindi ragazzi ricordatevela questa cosa perché non è una banalità soprattutto se siete diciamo in tre a fightare e volete partare qualcuno perché magari due stanno già fightando e voi siete fuori volete sparare col cecchino ricordate ragazzi questa cosa che ogni volta che sparerete con il cecchino darete via la vostra posizione quindi pensateci un attimino prima di sparare soprattutto se volete rimanere nascosti un attimo di più per diciamo prendere una posizione più vantaggiosa perché magari vi trovate in un punto più basso della vostra città un esempio in cui non vorreste fare una cosa del genere è il seguente siete a palme acquatiche ok voi magari non ci andate ma io sì quindi vi faccio un esempio su di me sono a palme acquatiche sono sul centrale ok sono sul centrale c'è due che fightano aspetto di avere il colpo pulito prima di sparare ok perché non voglio che loro sappiano che ci sono anch'io un altro esempio potrebbe essere il seguente invece sono a palme acquatiche e qui c'è il centrale ma io sono fermo alla piscina ok e il mio avversario diciamo che l'ho visto prima ed è davanti alla macchinetta qui ok o comunque alle case più dietro quindi c'è distanza tra di noi però sparare da qui non mi converrebbe troppo perché se dessi subito via la mia posizione da qui partiremmo diciamo tra virgolette alla pari se non lo colpissi eh sto parlando se avete il colpo pulito ragazzi sparate ovviamente però vi ripeto che se sparate date via la vostra posizione quindi quello che vi converrebbe fare è prima riposizionarvi e poi dopo aspettare il momento per sparare ovviamente ripeto se avete il colpo e siete solo in due non siete in tre questo discorso della posizione diciamo può venire a meno perché soprattutto se avete il barrett anche un colpo al corpo ragazzi va benissimo perché fa talmente tanto danno che diciamo avete già chiuso lo sconto prima di iniziare il secondo punto ragazzi è semplice in parte l'ho già detto però è quello di pazientare prima di sparare il colpo ok se vedete che uno si sta muovendo e si sta muovendo un po' adesso a sinistra senza che capiate bene dove sia non rischiate subito il colpo perché probabilmente c'è un momento in cui magari si ferma non so a raccattare un oggetto aprire una cassa a smezzare munizioni a un suo amico non so a fare qualsiasi cosa magari si ferma un attimo quello è il momento in cui sparare non vi sto dicendo che non dovete sparare in movimento anzi se il vostro avversario si muove in moto rettiline uniforme allora potreste decidere comunque di provare il colpo perché se calcolate bene il tempo dell'arrivo del proiettile e quindi aspettate un attimo soprattutto che magari vi troverete in delle situazioni in cui potete aspettare prima di sparare ma diciamo vedete l'avversario gli sparate subito e missate a questo punto i vostri avversari sapranno che ci siete anche voi quindi diciamo che non sfrutterete al massimo la potenza del cerchino perché aspettare un attimo che l'avversario si fermi e colpire sicuramente l'avversario e aumentare le probabilità di un colpo alla testa vi porterà molto molto beneficio quindi ragazzi pazientate prima di sparare e ricordate che darete via la vostra posizione perché io prima ho parlato solo di far conoscere agli avversari che state fightando voi dove siate ma in realtà ragazzi la posizione la date anche agli avversari che voi non sapete dove sono quindi se c'è un avversario che sta arrivando da dietro vi sente sparare dice che c'è qualcuno qui vicino con il cecchino e voi magari non l'avete nemmeno visto perché sta arrivando da un altro luogo rispetto a voi un'altra cosa ragazzi che in molti fanno è quella di rimanere ad aspettare con il cecchino zoomato per vedere se colpiscono o meno al bersaglio questa ragazzi è una cosa che volete evitare sempre una volta che avete colpito levatevi subito cioè levate il mirino sparite subito perché rischiate di essere cecchinate a vostra volta quindi sparate e andate via ok non rimanete rifermi a vedere cavolo l'ho colpito o no cioè quando appena cliccate via il colpo lo vedete anche dopo l'hit marker lo vedete anche dopo quando siete dentro un muro e siete protetti ok quindi non state fuori a prendere colpi a gratis questo è il senso perché molte persone spesso rimangono diciamo colpite quando provano a cecchinare qualcuno perché dicevo cavolo hanno cecchinato qui ragazzi questo potrebbe essere il problema ovvero che aspettate di vedere che il colpo arrivi fateci caso magari la prossima volta che sparate e un'altra cosa che potrebbe aiutarvi è non piccare dallo stesso posto ovvero se siete sopra la rampa qui ok avete sparato una volta boom l'avete missato boom vi raffacciate qui boom e vi raffacciate qui sempre dallo stesso punto prima un po' ragazzi vi cecchino e vi prendo perché il vostro avversario saprà da dove uscite ok quindi quello che è importante fare in questo caso è una cosa abbastanza semplice ovvero è o cambiare posto potete allungarvi con una scala mettere due muri fare finita che siete saliti poi magari invece riscendete giù per tirare la cecchinata ok quindi fare tutte queste strategie diverse e insolite vi aiuterà a portare colpi un'altra cosa che potreste fare è diciamo siete avete portato un colpo da qui e avete missato ok boom avete sparato piedi insomma non l'avete preso a questo punto invece di raffacciarvi qui quello che potreste fare per diciamo confondere il vostro avversario alla seguente cosa una volta ragazzi che avrete editato la rampa quello che vi vostre a fare è mettere fuori il cecchino così una volta che avrete editato il muro il cerchino spunterà subito salire un po sulla rampa come vedete mi posso spostare un po e l'edit è ancora confermato confermare l'edit a questo punto ragazzi l'avversario sarà distratto dalla finestra che avrete fatto quindi ragazzi editate qualcosa tenete l'edit premuto confermate l'edit appena l'avversario si distrae nel capino ok tanto a questo punto non vi vede perché sarà distratto diciamo a guardare dove avete editato si può l'avversario un po più esperto magari se ne accorge quindi non statici un quarto d'ora a sparargli fate una cosa veloce un'altra cosa ragazzi che potreste usare invece alla seguente vi affacciate una finestra e vi fate vedere un attimo giusto fate uscire il cecchino senza esporvi troppo e rientrate dentro magari vi fate vedere che siete lì ora con il muro di legno viene male questa cosa perché si vede attraverso il muro però magari con un muro di ferro o di mattone la vedete cioè risulta più efficace questa tecnica state fermi sulla finestra appena diciamo il muro costruito completamente che dall'altra parte si vede poco ok quindi a questo punto vi fate vedere che siete qui fate un po così fate finta tipo di cecchina in realtà non cecchinate nessuno quello che dovrete fare ora per diciamo confondere il vostro avversario la seguente cosa editare fare un'altra finestra di lato qui ragazzi avete il right and pick e nel capo e anche qui ragazzi l'avversario sarà distratto perché diciamo la doppia finestra è poco aspettata come cosa con questi ragazzi sono tutti i trucchetti che potete diciamo scoprire diciamo da soli e inventarvi da soli perché non è che ci sia un vero e proprio trucco cecchinare da dietro un cono invece è altrettanto buono perché mantenete diciamo vi mantenete abbastanza coperti se dovete sparare da qui è meglio mettersi appunto il cono perché qui la testa sarà più coperta qui colpite qui come vedete siete abbastanza nascosti quello che vi basterà fare è alzarvi sparare alzarvi sparare ma vi ripeto queste sono tutte cose tra virgolette semplici e scontate però se non lo fossero fatemelo sapere che magari farò un video su delle costruzioni particolari con cui sparare coperti o abbastanza coperti quindi ragazzi per ora abbiamo detto di non dare via la posizione aspettare di avere un colpo pulito non rimanere a vedere se il colpo arriva o meno con il cecchino zoomato non piccare dallo stesso posto e creare diciamo esche o bait per sparare da un'altra parte anche questo ragazzi può funzionare fate la finestra sotto voi siete sempre sopra in realtà ok quindi le esche per far piccare i vostri avversari l'abbiamo dette un altro trucco invece molto avanzato sempre di baiting è la seguente cosa sapete che avete un avversario lì fate finta di sparare a qualcun altro tipo da dietro no fate qualcosa del genere che lui non possa vedere quindi lui magari non saprà che ci sarà un avversario o meno fate finta di fightare con qualcuno sparate portate due colpi così no appena l'altro vede che vi può sparare no perché magari sente che voi siete affacciati da che facevate finta di sparare a qualcuno rigirate col cecchino e gli sparate perché diciamo quello sarà un momento in cui si affaccerà perché sostanzialmente lui pensa che voi stiate sparando da altre persone mentre in realtà state solo aspettando che diciamo lui affacci la testa un altro elemento ragazzi fondamentale per colpire più headshot con il cecchino è il ping ogni volta che troverete dei nemici e potete pingarli fatelo perché questo ragazzi vi dirà la distanza effettiva che c'è tra voi il vostro avversario e vi permetterà di colpirlo la maggior parte delle volte in testa questo perché sapendo la distanza saprete a quante tacchette alzare o abbassare la mira del cecchino quello ragazzi che dovrete sapere per usare questo trucchetto del ping al meglio sono le distanze diciamo tra le varie tacchette ogni piccola tacchettina sono 150 metri quindi la prima tacchettina sarà 150 metri e questa seconda sarà 300 metri la seconda ragazzi è quella un po più spessa come vedete e quello che vi basterà fare è semplicemente calcolare la distanza giusta per sapere dove far arrivare il vostro colpo quindi se l'avversario vostro è una distanza inferiore a 150 metri quello che vi basterà fare è diciamo mantenere il mirino esattamente o sulla testa un po più in alto di fuoco non troppo perché siete a 50 metri già qui dovrebbe essere alla testa come colpo ok quindi avendo anche la testa una certa altezza vi permetterà diciamo comunque di avere uno spazzettino extra però se volete essere precisi cercare di portarmi a una distanza di 75 metri in cui diciamo sparerete nel mezzo del mirino oppure a distanze pari tipo 150 metri 300 metri perché saranno ottimali per sapere quando sparare adesso ragazzi vi farò vedere che esattamente a 150 metri se pingate e mettete la tacchetta sulla testa lo colpirete l'avversario ok quindi ricordatevi queste distanze fate un po di calcoli di rapporti e robe del genere e noterete che riuscirete a portare molti più ad 18 rispetto a prima semplicemente perché saprete la distanza giusta che c'è tra voi e l'avversario l'ultimo esempio ragazzi che vi voglio fare è questo su una distanza di 300 metri purtroppo questa volta è un po sfalsato perché sono diciamo alzato rispetto al terreno la cosa vale sì però dovreste comunque essere diciamo sullo stesso livello quindi qui già meglio purtroppo siamo a 266 quindi direi che un'altezza del genere dovrebbe essere un headshot ok quindi tenete a mente queste piccole distanze per calcolare l'esatta altezza di dove portare il mirino così facendo vi troverete a colpire molti molti più headshot e questo ragazzi dell'usare il ping è il trucchetto che io uso sempre e mi permette di colpire molti molti più headshot di quello che fare normalmente quindi diciamo che se l'avversario ha una portata di meno di 100 metri di solito magari non pingo nemmeno o pingo per abitudine ma so già ragazzi che non devo abbassare troppo il mirino rispetto alla testa dell'avversario anzi di solito sparo subito se ce l'ho sul mirino e la testa esattamente quindi ragazzi se l'avversario ha meno di 50 metri il mirino lo potete sempre tenere puntato qui senza problemi però se la distanza è maggiore allora dovrete alzare quindi ragazzi provate e fidatevi ma provate soprattutto e poi fatemi sapere quanti headshot siete riusciti a colpire in più rispetto al solito quindi ragazzi da oggi in poi per favore usate questa cosa del ping sia per segnalare la posizione degli avversari se giocate in una modalità cooperativa tipo duo squad o trio sia per voi stessi perché vi renderete conto meglio della distanza tra voi e il vostro avversario e riuscirete quindi a portare diciamo colpi più puliti e che colpiscano sempre questa cosa del ping ragazzi però vi potrà essere utile anche in altre occasioni se voleste sparare a qualcuno al corpo perché magari avete paura di prenderlo ai piedi quindi avendo un'altezza giusta vi regolerete per colpirlo al busto che è il posto in cui c'è meno buchi perché magari a volte andate a sparare ai piedi e lo prendete in mezzo alle gambe e quindi non lo hittate sostanzialmente questo potrebbe servirvi diciamo anche come rimedio a questo piccolo fatto l'ultimo trucchetto ragazzi che ho per voi è quello di mettere questa mappa di ghirzi troverete ragazzi il link della mappa in descrizione anche se probabilmente se avete visto i miei video vecchi su come allenare la mira l'avete sicuramente già salvato da qualche parte però questa ragazzi è la versione aggiornata quindi se non ce l'avete vi consiglio di aggiungerla e aggiornare il vostro codice della mappa cominciamo subito non starò a fare spiegazioni della mappa e robe del genere quello che dovrete fare è prendere un cecchino intanto la traiettoria dei cecchini è uguale per tutti quelli che sono a colpo pesante chiaramente quindi mi prendo il bolt action perché carica prima skipperò diciamo questa parte ragazzi nel video dovrete una volta arrivate a questa sezione ragazzi prendete il cecchino se non ce l'avete già e quello che dovrete fare è sostanzialmente hittare diciamo le sagome che si muovono e allenarvi qui questo ragazzi vi aiuterà un sacco perché le sagome hanno tutte velocità diverse l'una con l'altra come vedete qualcuna salta su e giù si abbassano altre si muovono più o meno velocemente cioè quelle un po' più nascoste ok quindi cercate diciamo di allenarvi questa per esempio va molto molto piano e niente hittatele allenatevi qui ragazzi per colpire avversari in movimento perché soprattutto quando sarete a fightare magari da vicino che gli avversari si muovono veloce dovrete avere il giusto tempismo per colpirle ok di buono che ad shot io ho fatto per questo video ragazzi è tutto mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto lasciate un mi piace e scrivete nei commenti il trucchetto che vi è stato più utile per migliorare con il cecchino e niente ci vediamo al prossimo video ciao a tutti